E' un'occasione imperdibile! In tutti gli store Dotolo Mobili, solo con l'acquisto di una cucina firmata Mobile Touri, avrete in regalo un televisore da 50 pollici e una lavastoviglie da 13 coperti, entrambi di marca Samsung. Godetevi la vostra nuova cucina, godetevi le vacanze estive, perché solo con Dotolo Mobili, senza un euro di acconto, la prima rata è a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Teverola Caserta, Benevento e Foggia. Dotolo Mobili, la qualità al giusto prezzo. Papà, ma almeno questa volta abbiamo fatto bene i conti.